Ciao, siamo Martina Maddalena e questo è il nostro primo passo per creare un sistema che migliori la vita nelle nostre città. Ci lega la passione per l'ecologia, l'arboricoltura e tutto ciò che riguarda il paesaggio. Il progetto che vi vogliamo presentare nasce dalla nostra tesi di laurea, si chiama Street, alberi in strada, un modo per rendere migliori gli spazi che viviamo tutti i giorni per tornare ad avere città vivibili e sane. La nostra idea è semplice, piantare più alberi possibili in città. Gli alberi danno tantissimi benefici ma hanno bisogno di spazio. Le nostre città sono piene di spazi vuoti, allora perché non riempirli con gli alberi? Stiamo sviluppando un software che faciliti l'introduzione di alberi in città in modo da incentivare la riuscita di tanti microinterventi. E lo scopo finale è l'aumento diffuso del patrimonio arboreo cittadino. Gli alberi, ogni singolo albero, svolge tantissime funzioni. Non solo fissano l'anidride carbonica, migliorano il microclima, riducono il rumore e purificano l'aria, ma aumentano anche il risparmio energetico e il valore degli immobili. Il software che costruiremo con il tuo aiuto sarà pratico e intuitivo. diventerà uno strumento indispensabile per chiunque voglia progettare uno spazio urbano, inserendo l'albero giusto al posto giusto. Basta che il progettista inserisca i dati dello spazio che vuole riqualificare, dimensione, distanze, utenza, caratteristiche del suolo, sottoservizi e il software Street gli consegnerà un progetto arboreo chiave in mano. Si tratta di un modulo corredato dalle informazioni che servono per un impianto corretto. Indica quindi la specie arborea, il suolo, i sistemi di irrigazione e drenaggio, tutori, manutenzione e tanto altro. Noi crediamo molto in Street e nelle sue potenzialità, ma abbiamo bisogno di tutti voi perché nasca e perché cresca. Grazie per aver guardato il video, con il vostro sostegno potremo rendere Street una realtà.